I Beatles a Roma sono qui con Gianni Biziak, giornalista Rai, cronista, inviato speciale, uno dei maggiori esperti della famiglia Kennedy in Italia potremmo dire e anche il primo e l'unico giornalista italiano che ha intervistato i Beatles tutti e quattro insieme nel lontano 1963, quindi quando i Beatles erano proprio all'inizio, in Inghilterra erano molto famosi ma nel mondo cominciavano in quel momento. È stata una grande intuizione riuscire a intervistarli o un colpo di fortuna? Un mio collega della BBC, Paul Roland, al quale io avevo fornito le entrature in Vaticano per fare Papa Giovanni, voleva restituirmi il favore e ha detto ci sono quattro ragazzi che cantano così. Io in Italia conoscevo Celentano e Mina, che erano due persone, personalità straordinarie, e ha detto ma guarda che io non mi occupo di cantanti, mi occupo di grossi fatti politici, di guerra, eccetera. E lui dice ma questi vedrai che mi portò in questo teatro, mi ripresentò. Loro così nel camerino, in teatro, erano piuttosto timidi, molto perbene e così, non mi davano l'idea di essere un mito. Invece io ho capito chi erano quando siamo andati in mezzo al pubblico, perché il pubblico era letteralmente in delirio. Quando loro cantavano in teatro non si sentiva niente. Noi si vedevano loro con le chitarre che facevano così e si sentiva l'urlo della folla. E quando finiva la trasmissione, quando finiva lo spettacolo, per evitare che i ragazzi salissero sul palcoscenico e si avvinghiassero ai Beatles, loro suonavano l'inno nazionale inglese, God Save the Queen, perché lì ancora funziona. E poi abbassavano la cortina di ferro, perché il palcoscenico nei teatri ha la cortina di ferro contro l'incendio. E quindi loro abbassavano una cortina di ferro, suonavano l'inno nazionale per bloccare l'aggressione. Però questa intervista che io ho fatto poi nel sotterraneo di questo teatro, doveva essere fatta fuori, perché fuori c'era una tempesta, una pioggia torrenziale. E i Beatles loro stessi, che volevano sempre scherzare, in particolare John Lennon e Paul McCartney, hanno detto facciamo l'intervista sotto la pioggia. Allora siamo usciti e c'era un cancello dietro il quale c'era una folla di ragazzi che urlavano, e questa pioggia, e loro volevano fare l'intervista sotto la pioggia. Senonché il mio operatore, che era abbastanza pignolo, ha cominciato a pulire, ad asciugare la macchina da presa, gli obiettivi, eccetera. E alla fine, dopo dieci minuti, i poveri Beatles erano totalmente inzuppati, e quindi hanno detto, beh, siamo andati dentro, si sono cambiati, abbiamo fatto un'intervista all'interno. Visto che questo fenomeno stava nascendo, tu avevi la percezione del fatto che questa cosa sarebbe stata una trasformazione, potremmo dire, epocale, attraverso i Beatles della società, oppure sembrava una cosa che è destinata a finire? Io ho avuto una sensazione, però non della dimensione che poi la cosa avrebbe avuto, perché bisogna tener conto che negli anni 50 i giovani in Italia, in Europa, nel mondo, vivevano nelle famiglie, dipendevano dai genitori, erano vestiti molto così, andavano a scuola, eccetera, eccetera. Cioè non avevano l'indipendenza, invece nei primi anni 60, tra il 62 e il 64 e il 65, i giovani con il boom economico hanno cominciato a lavorare, quindi teenager da 13 fino a 19 19 e lavorando sono usciti dalle loro famiglie, si sono messi a vivere in maniera indipendente, anche in coppie, ragazze e ragazze, eccetera, e quindi è cambiata la loro vita. E per loro il simbolo di questa libertà che era venuta prima in Inghilterra, poi in Europa, poi in Italia, poi nel mondo, erano per l'appunto i Beatles. Questo fenomeno, che era un fenomeno che in Inghilterra si è presentato con maggiore energia, diciamo, piuttosto che in altri paesi, insomma, poi a contagio, no? Si è sparso anche in Europa, negli Stati Uniti, eccetera, ma in Italia il fenomeno dei Beatles in quel momento era molto lontano, lo conoscevano in pochi e anche dopo... In Italia i Beatles perché nessuno li conosceva. Ho fatto questo servizio di TV7 che durava circa 19 minuti e l'ho intitolato I Favolosi Beatles perché questi ragazzi dicevano fabulous, fabulous, they are fabulous, sono favolosi e quindi questa parola favoloso da dal 1960... prima in Italia la parola favoloso non si usava e da allora si dice favoloso per dire una cosa e questi favolosi Beatles hanno praticamente sfondato lo schermo della televisione italiana nel Natale del 1963. Quindi tutti i giovani hanno cominciato a comprare i dischi a milioni e quando un anno e mezzo dopo i Beatles sono venuti a Roma, a Milano prima, poi a Roma e sono diventati, diciamo così, a portata di mano, anche in Italia il fenomeno dei Beatles è stato un simbolo della nuova libertà di questi ragazzi che potevano uscire la sera, per esempio qui noi avevamo dei locali da ballo dove i ragazzi andavano anche la sera, anche la notte, mentre prima i ragazzi e le ragazze molto giovani non potevano uscire la sera. Quindi è stato un simbolo di libertà che poi purtroppo successivamente è uscito anche con la droga, ma per esempio poi due anni dopo venne fuori la minigonna, cioè la minigonna fu una delle bandiere di questa nuova libertà. Ma secondo te siccome sappiamo che i concerti che si tenero qui in Italia, la RAI che era l'unica televisione in quel momento, non coprì assolutamente l'evento, nel senso che non si ritenne meritevole di copertura all'epoca. Questa sorta di miopia per un fenomeno così rilevante come ormai era sotto gli occhi di tutto, nel 65 ormai era, nel 63 si può capire, ma nel 65 era ormai planetaria la cosa. Come la spieghi? Ma diciamo che il fenomeno si è sviluppato progressivamente, anche in America. Io andavo in America fino al 62-63, in America ci si vestiva di grigio con la camicia bianca, la cravatta blu, le scarpe nere eccetera. Dopo il 63-64 la gente ha cominciato a mettere la camicia aperta, a fiori, la giacca colorata, insomma anche i vecchi, gli anziani, hanno cominciato a voler diventare più giovani, a cantare queste canzoni dei Beatles, ad andare a ballare. In Inghilterra facevano delle sale da ballo per 3-4 mila ragazzi che erano poi in un complesso dove i ragazzi che venivano anche da fuori Londra potevano cambiarsi, c'era il barbiere, c'era il bagno caldo, c'era l'albergo con le stanze, c'era il ristorante, quindi i giovani che venivano lì oltre a ballare trovavano un luogo, c'era lo spettacolo, c'era il cinema. E quindi i giovani questa loro indipendenza la potevano realizzare in questi enormi locali che prima non c'erano praticamente. A te i Beatles piacciono? Sì, i Beatles piacevano, c'è un fatto che un mio collega, Gino Pallotta, che leggeva allora il Tg2, arrivò con la figlia che aveva 14 anni all'albergo dove stavano i Beatles qui a Roma, che era il parco dei principi. Io pranzavo con loro, noi stavamo insieme, eccetera. Io non ho visto tra l'altro lo spettacolo che loro hanno fatto a Roma perché li avevo visti, ero stato in giro con loro in Inghilterra. Però questa ragazza, la piccola Pallotta, che voleva che i Beatles mettessero i loro autografi su un libro di foto, io ho detto vieni con me nella loro stanza così li conosci. Siamo saliti, loro avevano due stanze doppie comunicanti, tutto il disordine che potete immaginare e quando hanno fatto le firme hanno detto ma questa ragazza parla l'inglese? E io ho detto parli l'inglese? Sì, perché non parli con noi? Lei si è messa a piangere, adesso questa ragazza Pallotta è la presidente del premio Freggene, un premio importantissimo, eccetera. E piangendo disse parlare sarebbe troppo, perché parlare col mito, insomma, erano già diventati in Europa e nel mondo un mito. Ci dicevi che tu non hai fatto solo l'intervista ma in Inghilterra hai seguito anche un po' e l'ho invitato a fare un giro nella provincia inglese intorno a Londra, è stato molto interessante perché vedevamo la reazione dei ragazzi, eccetera. E quando la sera andavamo a cena in questi piccoli ristoranti, loro per non farsi riconoscere con la brillantina tiravano i capelli all'indietro, si mettevano in una regolare cravatta e nessuno li riconosceva. E poi loro siccome scherzavano sempre, John e Paul parlavano male dei Beatles, dicevano questi Beatles sono dei cretini, cosa credano, niente. E tutti i ragazzi nei locali protestavano di fronte a questa cosa qua. E ricordo che un giorno andavamo, loro avevano la loro macchina, io avevo la mia con la Rai, eccetera, e pioveva sempre in quel periodo e c'era un campo, un prato grandissimo e c'era come un cadavere, un corpo. Allora siamo scesi dalla macchina per andare a vedere e lì in questo campo c'era una ragazza in mezzo all'erba, così, che piangeva e diceva Paul, Paul, chiamava Paul McCartney, perché non era riuscita ad andare allo spettacolo. E quindi era lì che come si volesse lasciarsi morire, praticamente. E noi l'abbiamo poi portata con noi, l'abbiamo presentata a questi ragazzi. Ma per esempio i ragazzi della mia troupe, con i dischi che i Beatles ci davano, i mono allora, avevano molto successo con le fanciulle anche a Londra, perché appunto avevano i dischi con sopra le firme, eccetera. E loro, devo dire, la cosa bella è che loro giocavano, cioè loro non erano dei professionisti che volevano guadagnare, e loro però guadagnavano delle cifre folli, perché avevano un procuratore, un organizzatore che si chiamava Epstein, il quale era di Liverpool e il padre aveva un negozio di strumenti musicali, così, e lo aveva mandato via da casa perché lo considerava un fanullone, lui tra l'altro era anche gay, quindi insomma, e lui con i Beatles ha fatto fortuna, perché lui con i Beatles, insomma, da un piccolo organizzatore di provincia è diventato Epstein, e purtroppo dopo qualche anno si è suicidato Epstein. Visto che hai vissuto tempo normale con loro, insomma, i caratteri delle persone, cioè questi quattro ragazzi, di cui abbiamo un'immagine adesso, Paul molto gentile, affabile, John Lennon più sarcastico, George tranquillo, Ringo un po' buffo, era una cosa, cioè era realmente così o era un po' una posa? Dunque loro erano, due erano quelli che parlavano, che erano John e Paul, gli altri due erano muti, praticamente non parlavano mai, a me mi hanno detto solo il nome e l'età, e in particolare Ringo Starr sembravano due maschere in effetti, ma erano veramente così, invece c'è Paul e John, John era l'intellettuale, diciamo così, Paul era il playboy, se così possiamo dire, e tutti e due si sono secondo me rovinati, perché da ragazzi che erano sono diventati adulti, e quando si sono sposati, perché le mogli li hanno messi l'uno contro l'altro, perché la moglie di Paul, quella di John, diceva guarda che lui ti sta imbrogliando, sta cercando di prendersi, insomma alla fine i Beatles hanno deciso di sciogliersi, e questo è stato un dramma per i Beatles, ma è stato soprattutto un dramma per i loro fan, perché i fans li volevano vedere insieme, invece loro poi si sono divisi, e quindi poi John per conto suo, Paul per conto suo, io l'ho visto qui a Roma quando è venuto al Colosseo, lui mi ha invitato, perché al Colosseo lui ha fatto due spettacoli, uno dentro al Colosseo per alcuni, e uno fuori, in quello dentro fu una cosa eccezionale, perché c'era la luna piena, e lui che cantava così vicino, ogni tanto si fermava, e si guardava la luna, guardava il Colosseo dietro, e diceva, è una cosa fantastica, estasiato, effettivamente sembrava combinato, invece era casuale, la luna piena, questo Colosseo sai dietro così illuminato, eccetera, e lui con questa orchestra che cantava da solo, perché l'orchestra era solo per Paul, e lui sposò poi una ragazza che aveva una gamba sola, cioè aveva un apparecchio ortopedico, e tutti pensavamo che era stato molto generoso con questa ragazza, perché lui che poteva avere tutte le donne del mondo, ha sposato una, che insomma, poverina, non era una donna completa, e viceversa questa gli ha fatto passare dei guai, perché gli ha fatto causa, gli ha chiesto dei soldi, ha detto addirittura se tu non mi dai, che ne so, due miliardi, io racconterò a tutti dei segreti, non capisco quali segreti potesse raccontare, comunque lui accettò, come voi ricorderete, di pagare una grossa somma a questa donna, divorziò poi, adesso ce n'è un'altra, eccetera, però poi John purtroppo fu ucciso, quindi adesso sono rimasti Paul e Ringo Starr, che ognuno per conto suo vanno in giro a cantare, eccetera, e le Olimpiadi di Londra, la sera molto tardi, ho visto appunto Paul, che ha cantato Hey Jude, e lui abituato, perché questa è la cosa, loro erano abituati a delle folle immense, cioè a diecimila, centomila, hai capito? Mentre un altro cantante si sarebbe emozionato, per loro era la norma, e quindi lui quella sera faceva cantare la folla dello stadio olimpico di Londra, come se fosse in un concerto, così, a me è piaciuto molto, invece poi siccome la gente critica sempre, specialmente in Italia, ma anche all'estero, lo hanno criticato, perché dice che era invecchiato, che non cantava più tanto bene, e insomma Paul McCartney comunque con la regina ha inaugurato le Olimpiadi. Lui è un bravissimo ragazzo, io conoscevo in Italia, nello stesso periodo in cui li ho intervistati, conoscevo bene Mina e Celentano, io con Celentano ho un'amicizia fortissima, che erano però due persone molto più adulte, molto più professionali, anche sul piano, credo, amministrativo dei soldi. Le mogli poi li hanno costretti a diventare dei borghesi, infatti loro hanno comprato delle ville a Londra in una zona in, quindi con queste mogli tutte così, eccetera, eccetera, e in pratica tra di loro è entrata la zizzania, però di quel periodo rimangono queste canzoni, bellissime le canzoni dei Beatles, e quindi loro ci hanno fatto questo regalo e hanno simboleggiato la nascita degli anni 60 e della libertà dei giovani. E quindi adesso siamo qui, a distanza dei 50 anni dall'uscita di Love Me Do, del primo loro 45 giri, ancora a parlare dei Beatles, ancora a festeggiarli e a godere della loro musica e di quello che ci hanno raccontato. Certo, perché il mito non muore, pensiamo per esempio a Marilyn Monroe, Marilyn oggi avrebbe 86 anni, eppure è ancora per i giovani e per le ragazze un simbolo, quindi non è l'età, non è quello che conta per il mito, è quello che rappresenta per la nostra fantasia e per l'entusiasmo che riescono a generare nel grande pubblico. Bene, ringraziamo Gianni Bisiac per questa intervista molto bella, molto appassionata, i Beatles a Roma vi salutano. Ciao, arrivederci a voi tutti, finché piacciono i Beatles vuol dire che siamo ancora tutti con uno spirito molto giovane. Grazie. 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 Grazie.